La fase della prevenzione significa svolgere un'attività di supporto sui cantieri, non in funzione necessariamente repressiva, ma anche di informazione, di supporto alle imprese edili, specie le piccole imprese edili che hanno bisogno di questa attività di supporto. E poi al tempo stesso sviluppare un'iniziativa di formazione con il personale, con i datori di lavoro, con i responsabili della sicurezza, con i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, cioè tutte quelle figure che devono innalzare il livello di sicurezza dei cantieri. Abbiamo definito un programma di attività formative. Che inizierà quando? Inizierà già il 4 dicembre con un primo seminario. È un modello operativo che noi stiamo sperimentando in vari settori sensibili. L'edilizia è uno di questi, ma siamo già partiti nell'area portuale. Per discutere di formazione e prevenzione della sicurezza sul lavoro nel comparto dell'edilizia, erano presenti al tavolo, presieduto dal prefetto di Taranto, i rappresentanti dell'ASL, del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'Inps, INAIL, ARPA, Vigili del Fuoco, Confindustria, oltre ai segretari generali di categoria di CGL, CISL, UIL e UGL. Un appuntamento programmato nell'ambito della conferenza provinciale permanente, ma che è coinciso con la drammatica attualità dopo l'incidente nel quale hanno perso la vita il titolare e un dipendente di un'impresa impegnati nella ristrutturazione di una palazzina del rione Tamburi nei giorni scorsi. Senza imbragature e senza casco, i due operai sono precipitati al suolo da 15 metri.